Dance, dance, dance Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Oggi siamo in un nuovo vlogmas Come state? Io sto benissimo A solito Si sta avvicinando Natale ormai Ci sono tutti i negozi addobbati Non lo so, mi fa un po' di impressione E' già passato un anno dagli scorsi vlogmas E io tipo non ci credo E' volato il tempo Vabbè, comunque non perdiamoci in giacchiere Allora Come avete detto dal titolo Oggi parleremo delle relazioni a distanza Dato che io ne ho avuta più di una Penso di poter aiutare qualcuno Che ha dubbi O comunque non sa cosa fare Non so se entra a prendere una relazione a distanza E quindi ho deciso di parlarne in un video Allora Le relazioni che ho avuto Sì, forse sono state tutte a distanza Quindi il mio problema sarebbe Avere una relazione Non a distanza Vabbè Comunque Le relazioni a distanza sono difficili E questo si sa Lo sanno tutti Non si ci può vedere tutti i giorni Anche se si sta a Tipo 15 km di distanza Blablabla Soprattutto per chi sta In mezzo al niente Dove non ci sono mezzi di trasporto Dove se non hai la macchina Praticamente Vedersi è impossibile Vi spiego come io ho affrontato le mie relazioni a distanza Come comunque Ho approcciato a queste relazioni Dato che non è da tutti Molti già Snobbano qualsiasi relazione a distanza Dicendo No io non ce la potrei fare Blablabla Anche io inizialmente dicevo così Poi Mi sono aperta a questo mondo E diciamo che non è impossibile Se c'è l'amore Si può fare Credetemi Le relazioni a distanza Non hanno solo condro Ci sono anche dei pro Allora partiamo dai condro Ovviamente non si ci può vedere tutti i giorni Quando si sta con una persona Si vuole abbracciarla Si vuole baciarla Si ci vuole stare insieme Insomma Si ci vuole uscire insieme Si cerca di passare il più tempo possibile con lei Cosa che nelle relazioni a distanza Non può esistere Però quando si sta insieme a quella persona Il tempo viene valutato di più Nel senso Già c'è l'ansia di incontrarlo Si stabilisce il giorno Devi aspettare quel determinato giorno E tu stai lì ad aspettare E quindi il tempo che si passa con quella persona Assume un valore diverso Uno dei pro delle relazioni a distanza Secondo me è quello di poter staccare Della propria quotidianità Della propria routine E di andare in un altro paese Vedere nuove cose Vedere nuove agende Magari viaggiare anche per un'ora Vedere persone diverse dalle solite Che si vedono tutti i giorni Nella vita quotidiana Questo secondo me è uno dei pro Delle relazioni a distanza Poter anche staccare per un giorno Due giorni dalla propria vita E dedicarsi completamente All'altra persona Quello che vi posso dire È che Le relazioni a distanza Servono a capire tantissime cose Tipo quando state lontano da una persona Potete capire se vi manca O se non vi manca Se vi manca vuol dire allora Che veramente ci tenete Se non vi manca Evidentemente è il caso Di chiudere questa relazione Che senso avere una relazione A distanza Con qualcuno di cui non ce ne frega niente Ogni minuto che si passa Con quella persona È prezioso Perché appunto Quando si pensa al tempo dopo In cui non si ci vedrà E quando si ci dovrà rivedere È normale che nessuno Decide di sua spontanea volontà Di andarsi a mettere Una relazione a distanza Però se capita Io l'accetterei nuovamente Perché Non mi sono trovata malissimo In una relazione a distanza Anzi Nelle relazioni normali Si può finire per dar per scondato Le persone che si hanno accanto Invece Nelle relazioni a distanza Questo non potrà mai capitare Perché appunto Vedendosi poco Il tempo che si passa È sempre Sempre prezioso Una cosa bellissima Secondo me Delle relazioni a distanza Sono le sorprese Quando si ci presenta così Al suo paese Senza preavviso È una cosa bellissima È veramente Impagabile Quello che si prova È un altro pro Da non sottovalutare Secondo me Perché io prendo sempre Le cose dal lato positivo Vedo sempre il bicchiere Mezzo pieno È che quando si ci lascia È più facile In che senso È più facile Quando tu ti lasci Con una persona Vederla Continuamente nella tua vita Magari tipo Distabilizzare un attimo Se invece Non vi vedete mai Ed è quasi improbabile Vedersi Se appunto Non si ci organizza Cioè Viene un po' Più facile Dimenticarsi l'altra persona Soprattutto se si cangela Dai social Se si cangela Da Da whatsapp Blah 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 Viene leggermente Più facile Secondo me Perché ripeto Non avendo avuto Una relazione normale Non posso faragonare Che cosa stranissima Lo so Vedete che bel video Sulle relazioni a distanza Parlo già di lasciarsi Perfetto Grande Chiara Sei un mito Se state prendendo Una relazione a distanza Preparatevi a stare Non dico 24 ore Sul cellulare Ma quasi Perché vorrete Continuamente Sentire quella persona L'unico modo Che avete appunto Utilizzare la tecnologia Ed è una cosa Che in questa nuova epoca Ha aiutato tantissime persone Esistono le videochiamate Esistono i messaggi Che comunque So che non sono la stessa cosa Di stare accanto a una persona Però aiutano appunto A colmare Un po' le mancanze Quindi si Divenderete appunto Degli asociali So che è una cosa Molto bella Però È l'unico modo Comunque che avete Per parlare con quella persona Soprattutto se sta A chilometri di distanza La domanda di questo titolo Credi nell'amore a distanza Non ha molto senso Secondo me Non dovrebbe nemmeno Esistere una domanda del genere Perché se amore è amore Supera tutto La distanza Il tempo Le barriere Non credete a chi vi dice No Non possiamo iniziare questa relazione E poi quando ci vediamo Ma c'è la distanza Ma devo prendere il treno E qui e lì Quando c'è l'amore La distanza Si batte Credetemi Che si batte E si vinge sempre Se c'è l'amore Se non c'è l'amore La situazione Degenererà Sicuramente Perché è abbastanza Insopportabile Se non siete innamorati Credetemi che è così Spero che con questo video E con la mia esperienza Abbiate cambiato adesso Queste relazioni di distanza Che appunto Secondo me Non sono così terribili E nulla Questo video Termina qua Se avete altri dubbi Altre domande Scrivetemelo qua Tutto nei commenti Se questo video vi è piaciuto Lasciate un pollice in su Se ancora non siete iscritti Iscrivetevi E vi mando un grosso bacio E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao